su whatsapp arriva la possibilità di modificare un messaggio entro 15 minuti dall'invio buongiorno e bentornati al caffettino podcast sono mario moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale commentiamo la notizia che non ti puoi perdere del mondo dell'innovazione oggi torniamo a parlare di whatsapp dopo il lucchetto per rendere fra virgolette segrete le vostre conversazioni arriva la nuova funzionalità di whatsapp che permette di modificare i post che abbiamo inviato a una persona contenente erroneamente un refuso o qualche cosa che dovevamo scrivere entro 15 minuti dall'invio dello stesso in un post ormai come da consuetudine per lanciare le notizie su questo il buon mark ha preso spunto da ilon musk cioè in un post dell'altro pomeriggio americano quindi l'altra sera pubblicava quest'immagine beast of luck invece che best of luck insomma per far vedere come in maniera scherzosa spesso non bestie ma sbagliamo inviare messaggi a me capita non in maniera costante ma ogni tanto succede sempre un casino perché devi riscrivere un altro messaggio non sai se scrivere lo stesso messaggio con la cosa corretta oppure mettere sulla parola corretta insomma come su tutte le altre applicazioni mi viene a dire mondiali compreso anche telegram dove si può modificare il messaggio dopo di che l'abbiamo inviato arriva anche su meta benvenuti nel mondo reale arriva su whatsapp la possibilità di cambiare idea modificare una volta che abbiamo commesso un errore con l'unico limite di poterlo fare questa modifica questa correzione in maniera contestuale all'invio ovvero entro 15 minuti dopo l'invio per evitare di inviare un messaggio avere una risposta e dopo diciamo così un'ora o due giorni andare a modificarlo screenshotare in qualche maniera sfruttare la modifica per avere dei vantaggi questo anche dal punto di vista della sicurezza e anche dal punto di vista legale farlo sarà ed è molto semplice nei paesi che hanno attiva questa funzionalità vai sul messaggio fai modifica modifichi il messaggio e salvi appare come modificato ma almeno la modifica si vede è chiaro non cambia granché per tutti gli utilizzatori di telegram signal e tutti gli altri programmi software app di messaggistica perché già c'è dalla notte dei tempi quello che in realtà mi stupisce non è tanto quanto sta promuovendo Zuckerberg quanto in questa settimana proprio è arrivata la conferma della multa da 1,2 miliardi di euro combinata a meta arrivata a meta dall'unione europea per l'accusa che già conosciamo da tempo di aver trasferito i nostri dati eh da cittadini europei illegalmente negli Stati Uniti dove eh li fa risiedere come eh server e come ci sia una continua come dire eh non curanza di questi problemi in realtà reali come altri problemi per esempio quello che abbiamo segnalato qualche settimana fa quando mi hanno clonato il profilo Instagram con Morio Moroni ne abbiamo parlato qualche puntata è simpatica come cosa è come ci sia l'impossibilità di parlare con meta con nessuno neanche attraverso eh diciamo i classici form da content creator o canali privilegiati bene è tutto lasciato ai botte è tutto lasciato probabilmente come dicevamo a meta verified ovvero il progetto di far pagare ai creator un abbonamento mensile per avere un supporto quindi da una parte arrivano servizi eh aggiunte di software diciamo così un po' de suete come quella di cui abbiamo parlato oggi e dall'altra ancora una incapacità secondo me di questa corporate e speriamo da un certo punto si sta eh si svegli eh nelle gestire i progetti globali insomma staremo a vedere quello che succede è chiaro che questa modifica quando arriverà in Italia per il momento non lo è eh sarà molto interessante per tutti quei boomer che ogni tanto mi scrivono senza pensare gli orrori ottografici lo so cosa state pensando quei boomer non modificheranno il messaggio mi manderanno i messaggi comunque sbagliati lo so è così ma lasciate un po' il sogno che possa accadere senza errori orrori ortografici questo è il caffettino podcast e io sono Mario Moroni ogni giorno 7 su 7 365 puntate l'anno oggi è la puntata 1371 se ti va ci sentiamo anche domani io sono qui buona giornata a prestissimo